Ciao, sono Alessia e sono la cofondatrice di K9 Wedding. La mia esperienza nasce nel settore matrimoni e nel settore eventi, un settore che tuttora amo e che mi piace. Però, come tutti, spesso ci troviamo presi dal mondo del lavoro, quindi diventa tutta una routine e dimentichiamo quelle che sono le nostre passioni. Un giorno stavo leggendo un libro, su questo libro c'era scritta una domanda che cosa volevi veramente fare nella tua vita e su quella domanda io ci ho pensato per giorni, è una domanda che mi ha colpito particolarmente. La mia grande passione era quella dei cani e quindi ho deciso di unire una cosa che già mi piaceva fare con una passione che ho sempre avuto e quindi ho cominciato a fare un corso di educatori e sono diventata educatrice dell'Oxena. Da lì ho messo insieme le due cose e ora sono parte del team della K9 Wedding.